Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale, siamo ancora qui nella nostra fantastica cittadina ridente di Springfield che ci accoglie come al solito con i suoi bei pollicioni in alto e come potete vedere abbiamo qui completato la missione che ci permette di accogliere questo nuovo bellissimo personaggio che è Telespala Bob. Nel frattempo Martin va in giro ad annusare i denti di leone e siamo quasi a metà del livello 15 quindi stiamo andando abbastanza velocemente avanti verso il livello 16 e verso nuovi orizzonti e nuove missioni della storia abbiamo racimolato un altro po' di Dolarozzi e ho shoppato un altro po' di ciambelle così in questo episodio magari ci compriamo qualcosina dal libro e a questo punto direi che possiamo iniziare, iniziamo più che altro sentendo la missione di Bob. Rieccomi nuovamente a Springfield, eppure c'è qualcosa di diverso. Come fosse esplosa in mille pezzi e poi rimontata maldestramente da qualche imbecille senza la minima idea di come si progetti una città. Ma se questa è una Springfield diversa, allora forse anche io sono un Telespala Bob diverso, non più ossessionato dall'uccidere Bart Simpson. C'è solo un modo per scoprirlo, spiare i Simpson dei cespugli attorno alla loro casa. A quanto pare il mio amore per gli appostamenti inquietanti non è cambiato. Raccogli germogli e cordogli parte 1, fai spiare i Simpson, date le spalle a Bob. Quindi inizia bene le proprie missioni questo nuovo personaggio, 12 ore, lo facciamo fare immediatamente. Questo qui me lo vedo un po' tipo il tizio, il ragazzo dalla voce stridula che ha pochissime missioni. Quindi raccogliamo un po' di danaro sonante, completiamo la missione un uomo talpa per tutte le stagioni che ci porta avanti per la prossima sua missione. E se non sbaglio anche la missione per patata completata? No, bugia, mi sbagliavo. Qui il giovane stridulo ci raccoglie, lo stadio, un po' di verdurine dal terreno di Cletus, un po' di stelline per quanto riguarda i Simpson. Il mio glorioso ritorno, missione completata, perfetto. Il custode del sotterraneo parte 1, anche quella completata. Quindi c'è rimasta soltanto la missione del tizio che dice sì ma per adesso dovremo attendere. E quindi direi di procedere con le missioni che ci stanno aspettando con questi personaggi. Vediamo Martin. Ah, la prima bocca di leone della stagione. Non potresti chiedere di essere bastonato più chiaramente di così. Sì, sembra che non riuscirò mai a liberarmi dalle fionde e dalle frecce dei Bulli. Bart, tu com'è? Eviti il loro tormento. Ti faccio un'offerta. Se mi aiuta ad aumentare i miei voti ti insegnerò a non essere una calamita per Bulli. Accetto umilmente e con gioia. Bravo, bravo Martin, fai così. Uniamo le forze che siamo più forti. Grande, prima le cose importanti. Getta via il Segway e fatti una bici. Finalmente, alleati parte 1, fai andare Martin in bici. Quindi 4 ore lo facciamo subito, immediate amount. E vediamo Bart che cosa vuole. Perché non costruisci il sotterraneo dell'Androide? Così potrai imparare una serie di inutili dettagli sui supereroi per togliermi dalla testa tutti quei fatti noiosi che ho imparato oggi a scuola. E sì, sì. Diciamo che ti ascolto. E quindi il sotterraneo dell'Androide verrà costruito. Raggiungi il livello 13, ce l'abbiamo. E lo andiamo a fare subito. Lo possiamo mettere lì, oppure vicino alla biblioteca. Secondo me non ci sta tanto. Vabbè che metterlo qui o metterlo lì, secondo me è la stessa cosa. Quindi, ma sì, dai, lasciamolo vicino alla biblioteca. Tanto sempre i libri sono alla fine. Quindi lo mettiamo qui. E poi chiudiamo la strada. Quindi per adesso va bene così. Allora, come mi avete chiesto voi, insomma, nei commenti, perché mi sto espandendo solo in un senso. Ragazzi, mi sto espandendo in un senso perché sono... Ma penso di avervelo già detto. In realtà sono molto curioso di sapere quanto è lunga la mappa. Solo che sto vedendo che costano veramente un occhio della testa i pacchetti di espansione. Quindi penso che lascerò perdere questa mia idea utopica. E più che altro mi concentrerò sull'espandermi a livello economico in ciò che costa di meno. Quindi per adesso o tipo mi espando qui sul mare. 33.000 me lo posso permettere. E poi magari andiamo a scendere dal secondo, terzo, vedete, 1.200, 1.600 si può fare molto più tranquillamente. Quindi magari per adesso facciamo così, ci espandiamo sul mare e abbiamo completato. Ah no, c'è anche questo da 35.000 in realtà. Quindi ci si può espandere anche sul mare, ok. Vediamo un attimo i nostri amici. Qui se ci danno qualcosa, ok. Andiamo avanti. Cosa abbiamo ancora? Qui abbiamo un altro amico. Ci raccoglie. Siamo... ok, perfetto. Siamo quasi a... no, quasi a metà, no. Siamo a un terzo per avere la testa di Olmec, che è il primo premio per i livelli di amicizia. E a breve, insomma, la prenderemo. Dopodiché, come stavo vedendo, qui il costo è di 35.000. Nel prossimo episodio, secondo me, lo possiamo fare. Oppure quello da 1.200. Comunque, per adesso abbiamo altre cose qui. Insomma, ci stiamo espandendo abbastanza. E sentiamo un uomo talpa cosa vuole. Fai pulire la centrale. La centrale all'uomo talpa che non vede niente, no? Lo so, la vedo nera, la vedo nera sinceramente questa centrale. Qui... qui non abbiamo niente di pronto. Ok, non abbiamo niente per tanto le ciambelle, per adesso ce le abbiamo. Vediamo un momento l'udopatia. Grattiamo il gratte e vinci. E 350. Non benissimo, ma neanche malissimo. Invece, il 33, ci serve solo Bart, che registra la conversazione a scopo di ricatto. Quindi, glielo faremo fare a breve. E dopodiché, andiamo al nostro librozzo, che ci darà una di queste quattro cose. Vediamo un po'. 30 ciambellozze. Zoo esotico per bambini. Perfetto. Su 5 avevamo soltanto due edifici. E due edifici abbiamo trovato. Quindi, proprio la sfiga fatta persona. Io direi che questo zoo lo possiamo mettere abbastanza vicino al mare, secondo me. Come attrattiva me la vedo di più. Mettiamo qui, tipo... No, facciamo così qui. Lo piazziamo qui. Ho comprato uno zoo esotico. Ma... Ho bevuto? Niente dal mio bar. Quell'alcol è alnacquato. Io sarò sicuramente un tuo cliente. Quando è la gara di Miss Maglietta bagnata? E dove posso infilare le banconute? Cosa? Non sto parlando di signorine esotiche. Questo è uno zoo di animali esotici. Scusa, quando sento la parola esotico, la mia mente va dove andrebbe la mente di tutti i sindaci grassocci. Fai preparare lo zoo a boh. Ma boh, non ce l'abbiamo. Quindi lo zoo non lo possiamo preparare. E dovremo attendere. Exotic petting zoo. Moose, ovviamente. Qui vedo un gatto con un corno, una pecora, dragone. E quello che sembra un cervo... Oh, non lo so, che cacchio direi. Una puzzola, orso e delle galline. Boh, vabbè. Abbastanza di schifo. Però ogni ottore ci dà 200 dollari. Quindi ce lo prendiamo per quello che è. Siccome non abbiamo avuto nessun personaggio, ci andiamo a comprare un altro pacchettino. Qui, casa marrone fichissima. Ecco, qui già iniziamo a ragionare. La casa marrone fichissima. La mettiamo qui, così. La piazziamo qui. Il fichissimo Homer. Mi ci sono volute ore per questo look appena sveglio. Guardate quanto è figo. Congratulazione, è il tuo primo completo. Tocca sul personaggio per cambiare nel completo. Ciascuno ha un suo set di lavori. Quindi tocca sul personaggio. Dobbiamo trovare Homer. Che è eccolo qui nel suo fichissimo completo. Guardatelo qui quanto diamine è bello. Veramente figo, figo. Quindi facendo così switchiamo i completi dei personaggi e possiamo, insomma, avere degli altri abbegliamenti. Perfetto, perfetto. Sono veramente contento per questa cosa. Al prossimo, insomma, acquisto lo faremo nel prossimo episodio. Scusate, il gioco di parole è prossimo, prossimo. E avremo sicuramente l'agola di Springfield o il lotto liquori con il maestro. A questo punto direi che possiamo andare dritti filati a registrare la conversazione a scopo di ricatto per Barti. In modo tale da completare l'edificio, i rifugi sulla montagna e gli innamorati. Homer lo mandiamo ad avere la stellina. La stessa cosa per Lisa. Krusty riscuote la decima sul franchise. Apu gli facciamo fare 4 ore. Barnes lo stesso. E qui mi sa che non abbiamo più missioni dai nostri personaggiotti. Sì, sì, vedo che, insomma, sono tutti liberi. E qui, purtroppo, capelli e caffè non lo possiamo fare. Siamo costanti a fare 24 ore per il giovane stridulo. Patata ci fa 4 ore, quindi lo possiamo fare. 4 ore, 4 ore. E il tizio dei capelli sì. Il tizio dei capelli sì, mamma mia, ragazza, proprio fuso. Il tizio che dice sì, i capelli non li può ancora rastrellare perché ci manca il coiffeur. E per il resto direi che siamo a posto così, giusto? Siamo a posto così, mi sa di sì. Ok, perfetto, ragazzi. Direi che per questo episodio possa essere tutto. Abbiamo sbloccato lo zoo esotico di Bo. Ah, ecco, può anche cambiare. No, vabbè, fantastico, ragazzi. Lo lasciamo così? Sì, dai, lo lasciamo così. Mi piace perché c'è Bo con il caschetto, quindi lo lasciamo qui. E per il resto direi che possa passare così. Io vi ringrazio ancora per tutto il supporto e per aver visto questa puntata in mia compagnia. Ci vediamo ad un prossimo episodio. Auguro a tutti quanti voi una buonissima serata. Vi ringrazio ancora per tutti i mi piace, le visualizzazioni, le iscrizioni. E ciao a tutti, ragazzi. Vi ringrazio ancora per tutti i mi piace. Grazie. Grazie. Grazie.